Con l'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19 per gli over 80, i sindaci sono chiamati in prima linea a mettere in campo un'imponente macchina organizzativa, a volte anche in pochi giorni. Organizzazione che va dal trovare la location per le somministrazioni al chiamare uno per uno gli anziani per fissare gli appuntamenti, un lavoro enorme che per i comuni più piccoli può diventare un incubo. Per questo motivo il presidente del Lancio Abruzzo, Gian Guido D'Alberto, chiede la creazione di un coordinamento centrale sotto la guida della regione con i sindaci e le Asle, volto a pianificare sotto tutti i punti di vista le campagne vaccinali. Il momento decisivo per l'avvio è per l'intensificazione della campagna vaccinale, ecco perché è fondamentale per noi sindaci, in raccordo ovviamente con le Asle, che ci sia un coordinamento regionale, cosa che al momento è mancata, quindi chiediamo un incontro, un confronto, una definizione di linee guida che valgano per tutti i territori, perché in questo momento ogni Asle ovviamente sta seguendo un suo percorso, la nostra Asle sta portando avanti, e devo dire meritoriamente, un'interlocuzione con i sindaci, ma non basta, perché i sindaci sono sempre in prima linea e anche sulla campagna vaccinale faranno la loro parte, ma devono essere messi in condizione di poterla fare, senza chiedere degli sforzi che comportano un impiego di energie che in questo momento tante amministrazioni comunali, tanti colleghi non sono in grado di fare se non pregiudicando tante altre attività. E poi c'è un altro tema, la necessità che venga chiamato a raccolta un esercito sanitario adeguato ad affrontare questa campagna vaccinale, ed in particolare la medicina del territorio. Non possiamo chiedere sforzi sempre e solo alla medicina ospedaliera, ai medici, infermieri e sanitari degli ospedali, i medici del territorio, i medici di base devono mettersi a servizio tutti di questa attività di massa, ora vedremo, si avvierà la fase più impegnativa, la fase della vaccinazione di massa, prima con gli ultraottantenni e poi con il resto della popolazione, dobbiamo intensificare comunicazione, informazione ed organizzazione, ecco perché tutti devono essere chiamati a raccolta e tutti devono rispondere.